Vediamo qua? Sì, dai, qua è ovvio che ti vedono Oh! No, vabbè, io me ne vado, io me ne vado, c'è gente veramente così No, 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 no No! Toglieteli la patente a quel guidatore Vabbè, almeno sono rimasti vivi What? Qua che cavolo sta succedendo? Non ci credo, sono ancora... Incredulo, attenzione, 9 di vita Oh, se lo ritrovo, oh! Che fortunello Come siete, vi porto un video molto divertente perché andiamo a vedere le cose più assurde che succedono qua su Fortnite Perché sapete che ogni giorno succedono delle cose molto, molto strane Perciò ragazzi, mi raccomando, speriamo, dicimi la pollice di su con questo video E tutti quelli che stanno guardando, ovviamente, dovete iscrivervi al canale Vi ringrazio come sempre per tutti quelli che mi condividono video da guardare qua sul canale Perché io mi diverto tantissimo e so che mi divertite anche voi Un saluto al volo per Nicola Nuti che mi ha messo like e mi ha seguito su Instagram Vi ricordo il link qua sotto in descrizione Ora io direi di mettervi super comode perché si parte, ci sarà da divertirsi Prendete la vostra Coca-Cola, Popcorn e così, come sempre Let's go! Ok gente, quindi iniziamo con questi momenti più assurdi Vediamo cosa succedono Cosa succede ai nostri amici che giocano a Fortnite Eeeh Ah, tra l'altro sono clip molto recenti, eh Finora mi sembra normale Mamma come scioglie questa pompa Mamma come scioglie questa pompa, guys Ok, razzo L'ha sciolto E ha vinto E' OP, è OP quel pompa, è OP veramente Mmm Allora Qua c'è uno con la skin da soldatino No No Vediamo se li passano di fianco e non lo vedono E' assurdo questo No No, vabbè Mi sa che è una squad Una squad Li girano intorno e non lo vedono Oh E non lo vede No No dai, è fatta No dai, è fatta apposta No, 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 no Non ci credo che non l'ha visto Si è incastrato con lui Non ci credo Qua che cavolo sta succedendo Non ci credo Sono ancora in credulo Attenzione 9 di vita Oh, se lo ritrova Oh Che fortunello Si è lanciato proprio dentro al cubo Vediamo qua Si dai Qua è ovvio che ti vedono Oh Oh Che è questo tizio lì che ride Oh L'ha visto Vabbè ma l'aveva visto dai Ti aveva beccato Ti aveva beccato Ti avevano visto Ci prova però Vediamo No 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 Vabbè ma veramente Anche a me è successo Ma non così vicino Cioè No, 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 no Come fanno a non vederlo Cioè capisco da media distanza Non lo vedi bene ma da così vicino Caro mio lo devi vedere Ok Ok Bella kill Ah Molto bella questa skin Ma Ma Bellissima Ma si Ah Quindi dietro la maschera non c'è nessuno Ah Ah Attenzione Ok Nemico Ok Stava trollando A 5 di vita Ah Qua 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 Questa è la cosa assurda Ok Ok Non commento quello che appena ho visto Turu 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 2 2 Sul latini E sul latini c'è troppo più questa skin Ve la dico io Oh Era tutto calcolato immagino no E un po' Sale Oh No Mi si è scaricato il controller Non ci credo che non l'uccide No No vabbè io me ne vado Io me ne vado C'è gente veramente così Io me ne vado ragazzi Cioè Va bene Essere dei caramelitos Ma questi livelli Ma questi livelli Sono assurdi Che sfortunato Che è stato Quello Oh 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 Attenzione Build Va su Muore Ti ha distrutto la base Ovvio che muore È naturale No Dai No Dai Queste sono fatte apposta Queste sono fatte apposta Dai Non puoi dire che non ti prende con una smitragliata Un colpo ti deve prendere Non ci credo No Dai No 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 Io mi compro sto ballo Io domani mi compro sto ballo Anche se non c'è Io domani mi compro sto ballo Guardalo Ma è possibile A parte che è da controllo Quindi vuoi dire che questo Inganna e manda in palla L'automira Del controllo Vuoi dire che questo è il segreto Che succede qua Che timing Che timing E quelli qua che volano Dopo si schianteranno E No 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 Toglieteli la patente A quel guidatore Ah beh almeno sono rimasti vivi Mamma toglieteli la patente Assolutamente Io avesse un compagno così Non ci giocherei mai più Immaginate la war cup Firefly Not respecting The drop Vediamo Ok Stiamo scendendo Non so dove Ah condotti Ok Accelera un po' Ah di Sopra la sentinella Li ruba l'arma No Li hanno rubato l'arma lui Peccato Senza armi Che può fare C'è un tattico là su C'è un tattico là su Non farglielo prendere L'ha preso L'ha preso Dai 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 C'ha pure un bidone Dai Dai però Non puoi Farlo Scappare così Li rubi l'arma Lo devi citere subito Vediamo qui Cosa combina Mamma mia Che giocatore Questo A una velocità Nel edit E riedit Non indifferente Guarda Non riesci neanche a colpirlo E lì sopra C'è chinata Ti prego E vabbè E vabbè Tutti i colpi Li sono entrati Anch'io voglio Questo potere A parte che ogni tanto Pietro ha certi colpi L'ho uccidato Vediamo Guarda Controllo ancora Lo uccide Uccide GG 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 Ci stava Come che Ci stava Normalissima Non è proprio assurda Ma Ci stava No Io sto trucco L'ho visto Che puoi rianimare Dentro Il tetto Ma non so Se il tetto Ti copre Effettivamente O no Perché vedete Che rimane giallo What Credo deve andare in bagno Credo Credo debba andare in bagno Vediamo se quando torna Ancora vivo Oppure no Eccolo Lì ce n'è uno Dai mi è assurdo Che questa skin sia così op Non lo vedi Ah E finisce così E finisce così Amiguitos Wow No dai Amiguitos Mi aspettavo una fine Un po' più op Però ci sono state cose Veramente Assurde E particolari Fatemi sapere nei commenti Vi raccomando A voi Cosa è successo Di assurdo Noi ci vediamo domani Con un altro video Sempre qua sul canale Fatemi sicurare Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao